Bene, siamo al supermercato ragazzi, domani parto per andare all'isola d'Elba e faccio qua la spesa perché così ho già tutto pronto, non è che devo fermarmi sabato o domenica a cercare le cose, dovrò sistemare la logistica, domenica anche, quindi vediamo e devo farla oggi, a parte l'acqua e banana e banane e altre cose che le prenderò lì nel posto. Ok, allora partiamo con la pasta, facciamo un misto, giusto così per provare e la pasta sarà sera e colazione probabilmente, se riesco a uscirò a mangiare a colazione e a sera, cioè devo per forza, comunque prendo, faccio un misto, prendo queste, ah e in questo video non ci saranno collaborazioni signori, non sono sponsorizzato, non ho partner con l'alimentazione, ho solo Prozis con l'integrazione, quindi magari vi faccio vedere le loro barrette, però tutto quello che scelgo qui al supermercato non ho sponsor, non ho collaboratori, non mi pagano per prendere le loro cose, non ho niente, capito, quindi tutto qua, tutto qua. Tanto siamo a 4 kg di pasta, facciamo 10 kg magari, prendiamo anche i fusilli, sono buoni i fusilli. 7, 8, ho preso 10 kg, adesso prendiamo pesto perché io vado matto del pesto e probabilmente, ah poi ti devo dire un'altra cosa perché con l'acqua di mare, quando starò 10-12 ore là dentro, i pezzi di lingua tipo un po' di, si stacca un po', qualche pezzettino. E per il sale, per tutto il tempo che sto lì, quindi devo prendere olio di cocco per limitare un po' questa cosa, però a caso di questo, già dopo il primo giorno teoricamente non riuscirò a sentire i sapori. Però magari col pesto che ha un sapore un po' più forte riesco, no? E poi più che altro a me piace troppo il pesto. Ah signori, sono un po' agitato, te lo devo dire. Comunque, se vuoi farmi un regalo, pesto, sottilette, guardimela e muesli. Non muesli, tipo, come si chiamano? Granola, ecco la granola. Quello è il top. Per il pesto, boh, io vado, non so, non so quale prendere. Pesto al pistacchio, esiste, sì? Boh, comunque prendo il pesto normale perché cose che non ho mai provato non le provo all'elba. Perché con l'alimentazione cerco di prendere solamente cose che ho già provato. Perché magari poi mi fa venire problemi di stomaco, cose che non ho mai provato. E' meglio limitare questa cosa qua. Quindi, pesto. Pesto preso, ne prendiamo un altro. Prendiamo un altro perché il pesto è sempre buono. Il pesto è buonissimo. Poi, andiamo a prendere... Ah, tipo tutte le cose da frigo, tipo le sottilette e mozzarella, cose del genere, le prendo da di là. Cioè all'elba. Tipo domenica probabilmente, domenica o sabato. Perché... Oh, olio di cocco! Perché... Perché sennò mi immacchina con sei ore di viaggio. Perché io sono da Bozzano, ci impieghi tipo sei ore. Col traghetto e tutto quanto. Quindi le cose da frigo le prendo lì all'elba. Ora, olio di cocco. E' lo stesso che ho preso l'anno scorso. Interessante. Molto interessante. L'olio di cocco lo utilizzo prima di entrare in acqua. Lo metto in bocca con un cucchiaio. So che fa schifo, però devo farlo. Perché stando tante tante ore in acqua... L'avevo già spiegato l'anno scorso. Stando tante tante ore in acqua... I pezzi di lingua diciamo che si... Si staccano un po' di pezzi di lingua. Ma non pezzi grossi, capito? Cubi, cubetti di lingua, cose così. Solamente dei peletti si staccano. Per il sale. E allora l'olio di cocco crea tipo una protezione per le prime ore. E così magari qualcosa fa. Poi magari me ne prendo un po' anche durante la notata. Sempre per il fatto della lingua. Perché guarda, anche l'anno scorso quando ho provato a fare questa sfida. Già il primo giorno, solamente con un giorno di nuotata, mi si stava staccando il pezzettino di lingua. Che non vi ho fatto vedere le clip perché... Non so, magari fa un po' schifo vedere uno che si mette la mano in bocca e si tira via pellicina. E quest'anno... E poi, come ho detto, il sapore non c'è. Non senti più il sapore la sera e i giorni dopo. È brutto. Soprattutto a me che avrò bisogno del sapore. Cioè per cercare di buttare giù le cose che mi piacciono. Perché saranno più o meno... Secondo me, minimo 8-10.000 calorie al giorno bruciate. Fai 8-9.000 dai. Quindi dovrò entregarne almeno, almeno 8. Ma probabilmente vedremo. Vediamo come sa come varrà. Come varrà. Nuovo termine italiano. A cava mia della crusca. E... Basta. Olio di cocco preso. 6 euro di olio. Che probabilmente prenderò 4 cucchiai. No, 4 cucchiai al giorno. Ora. Biscotti. Biscotti perché... Devo farmi fuori 10 kg di pasta al giorno? No, perché più che altro ti sazi. Mentre i biscotti sono buoni. Me li butto giù così. E tempo un pacchetto. Sono già sopra di 1200 calorie. Capito? Cioè, è il segreto del bulk, porco cane. Se hai problemi di... Che non riesci a mangiare molto. E sei giovane. Ok? Perché te lo puoi permettere. E so che è un discorso che può triggerare molte persone, può dare fastidio a molte persone. Però, secondo me, i dolci ogni tanto te li puoi buttare nel bulk. Perché sono calorie. Ok? Non voglio fare il samsulek della situazione. E non posso neanche paragonarmi a quella bestia lì. Bestia nel senso molto bravo, molto in gamba. Però... Sono calorie, ho capito, i biscotti. Allura. Biscotti. I miei biscotti preferiti sono i cuor di mela. Ma probabilmente se li mangiasse all'elba, li rovinerei. Perché tutti i mesi successivi non prenderei più cuor di mela perché mi sarei stufato. E quindi non li prenderò. So che fa strano. Prenderò un pacchetto solo per quando l'elba sarà finita. E per quando sto andando all'elba. Quindi prendo due pacchetti. Due pacchettini di cuor di mela. Se prendessi dieci pacchi di cuor di mela, sì me li mangio. Però quando me li tornerò a mangiare, ripenserò all'elba. Ripenserò a tutti quei dolori e cose che proverò. E non avrò più voglia di mangiare cuor di mela. Cioè me li rovino praticamente. Quindi i cuor di mela ma li mangio all'inizio e alla fine. Mentre durante mi faccio fuori tutti gli altri biscotti che mi piacciono. Adesso devo capire un po' quali. E torte. Pan di stelle signore. Pan di stelle guardate che sono una bella. Pan di stelle. Pan di stelle. Pan di stelle. Pan di stelle. Eccoli qua. Pan di stelle li prendiamo da quelli grossi. Due pacchi di biscotti di pan di stelle. Facciamo tre anche. Quanto è uno? Settecento grammi. Sette per cinque. Ok. Ho detto ok. Facendo finta di aver fatto già il calcolo. Sette per cinque. Ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho certo. Sono un po' di calorie. Tipo 3500 calorie. 3000 calorie. 3500. 3500. Che bestia che sono. Sono una bestia. Comunque sì. Sono un pacco a tipo 3500 calorie. Con tre pacchi siamo a 10.000. Prendiamo un altro pacco. No perché poi mi stufa forse. Prendiamo. Sì dai un altro pacco. Anche per la ciurma. Per la ciurma un altro pacco. Prendiamo un pacco di gocciole per la ciurma. Un pacco di gocciole per la ciurma. Le prendiamo classiche. E poi prendiamo un pacco anche per me. Le gocciole sono sempre buone signore. Poi le torte. Quelle non sono riuscito a provarle in allenamento. Quindi non so. Non penso che le prenderò le torte perché appunto non avendole mai provate non so se mi facciano reazioni o cose strane. Anche se sarebbero state un colpo di classe perché quelle porca calorie su. Invece prendo questo. Ne prendo due. Questo è spaziale. Tanti carboidrati. Calorie neanche troppe. Solo 300 sui 100 grammi. Però tanti carboidrati quindi vanno benissimo. E un altro magari. Ok. Ora direi che può andare. I Ringo che sono in offerta. In offerta i Ringo. Quattro pacchi di Ringo. E poi mi chiedono perché faccio queste sfide. No dai scherzo. No ovviamente. E abbiamo delle motivazioni parecchie potenti. Parecchie potenti. E non è il cibo signori anche se potrebbe sembrare così. Non è il cibo ragazzi. Un altro Ringo. Ah sì. Mandorle. Frutta secca. Ah se ti stai chiedendo la Nutella. No la Nutella io non la voglio guardare neanche. Perché sì ci sta a prendere cose caloriche ma c'è un limite. È ben buona la Nutella. È ben buona però manca no. Una cosa molto importante. Marmellata. Perché una qua magari un altro non lo so. Sì nel dubbio sì. Uno marmellata di albicocca e uno di ciliegia. Diciamo così. Questo sarà vitale perché lo metto in mezzo ai panini. Panini che devo andare a prendere adesso. Cereali li ho già presi. Ho preso quelli di Prozis. E... Li prendo altri due dai. Non saranno di Prozis però. Perché sono comunque... Uuuuh. Cocopops. Cocopops com'è che si dice? Cocopops. Boh. Questi ragazzi bisogna. Questi sono... Questi sono l'essenziale ragazzi. Per le calorie. Li metti in un bicchiere e fai così. Più che altro non so come faremo a mangiarle no. Boh. Teniamone uno solo perché non so. Perché appunto senza fare... Non possiamo fare la colazione. Perché ci svegliamo alle 5. Ma siamo in hotel. Non è che possiamo andare in cucina alle 5. Capito? Quindi mi sa che non faremo granché. Taralli. Come i panini. Panini morbidi. Bianchi. Non integrali perché... Se no mi si alzano troppo le fibre. E con tante fibre mi viene problemi di stomaco. Quindi vado di pane morbido. Normalissimo. Questo è 500 grammi. Quindi siamo a 500 grammi. Un chilo. Due chili. Tre chili. Perché... Panini con la marmellata. Panini con affettati tipo salame. Quasi del genere. Però soprattutto panini con la marmellata. E barrette. Quindi questi sono vitali. Ok. Uno. Due. Tre. Troppo. Così. Quindi siamo a... Due. Tre. Tre e mezzo. Così abbiamo un chilo. Due chili. Tre chili. Quattro chili. Cinque chili. Cinque chili. Può andare? Penso di sì. Oh ragazzi. Spero di sì. Altrimenti andremo nel supermercato. Ma penso di sì. Sei chili dai. Sei chili ci stanno. Facciamo sei chili e mezzo. Sei chili e mezzo di pane. Facciamo sette. Ma basta. Va bene. Basta. Non sto più contando. Non sto più contando. Mi sono dimenticato che sono più giorni. Non è uno come l'anno scorso. Ok. Ci siamo. Comunque ci tengo a sottolineare che tutta la roba che prendo qua, se non la mangio all'Elba, la portiamo a casa e la mangiamo ovviamente. Io non butto mai niente di tutte queste cose qua. Zero proprio. Anche le barrette. Dopo l'Elba ho dei progetti molto grandi. Non pensare che l'Elba sia una sfida e basta. Tu magari mi hai conosciuto con questa perché ha fatto alcune viso agli altri, ma ormai da due anni che faccio sfide e ho intenzione di continuare. Un po'. Scusa mamma, scusa papà se stai guardando il video. Però sì, ho in programma altre sfide, quindi in caso le barrette le utilizzo per gli altri allenamenti. E le sfide non sono... è quasi brutto chiamarle sfide. Sono qualcosa di grosso, non sono solo sfide. Sono cose grosse. Ok dai, voglio un po' di più di pane che un po' di meno. E' così calorica, non ho preso molto, a parte i biscotti. Non ho preso granché, però pazienza, al massimo vado sabato e domenica. Le altre cose che prenderò saranno banane, frutta, verdura e mozzarella magari un po' di sottilette. Olio, olio anche devo prendere. E basta in realtà, non c'è nient'altro che devo prendere. E se sei arrivato fin qua, se sei arrivato fin qua, grazie mille per aver visto il video. E se vuoi lasciare un commento di incoraggiamento, grazie. Io ormai sono un po' cotto in realtà, cioè, da tutta questa settimana che sto cercando di risolvere i problemi con l'organizzazione dell'Elba, poi ci faccio il video a riguardo comunque. E ho risolto tutto, manca solo una piccola cosa, la muta, che spero arrivi oggi, perché c'è scritto che deve arrivare oggi. E spero arrivi oggi, che ho dovuto comprare, non è neanche quella sponsorizzata, lasciamo stare. E basta, tutto qua. E domani parto, adesso queste cose le carico in macchina e stop. Ci siamo, ci siamo ragazzi. E concludiamo con un altro pacchetto di pane. Vado a prendere una bottiglia di olio adesso e ci siamo. Il tonno anche ho dimenticato, prendiamo anche il tonno ragazzi. Quattro, dai. E perché ho bisogno di proteine. Proteine e tonno. Olio. Ah, le mandorle, la frutta secca la prendo di là, proprio lì nel posto. Eccolo. Prendo questo, non troppo grande, piccolino. E basta. Ci siamo.